Gli interventi in emergenza per incidenti ed eventi traumatici nel periodo estivo sono aumentati a dismisura come spesso accade e la conseguenza affogge un drammatico incremento invece del fabbisogno di sangue che al Policlinico Riuniti scarseggia tanto da lanciare un vero e proprio appello accorato ai cittadini in salute, donatori periodici e non ad effettuare donazioni. Un appello che arriva direttamente dal direttore generale del Policlinico Foggiano Giuseppe Pasqualone. L'emergenza sangue sta interessando in questi giorni la città di Foggia e la soluzione non può essere differita soprattutto per pazienti oncologici, ematologici e talassemici oltre a chi è costretto a ricorrere in ospedale per gravi emorragie, interventi chirurgici e traumi. Un'emergenza che la direzione del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dei riuniti di Foggia sta provando comunque a superare anche attraverso il costante contatto con il centro regionale del sangue che coordina la rete trasfusionale pugliese. Dal Policlinico ricordano che è possibile donare recandosi direttamente presso il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dei riuniti di Foggia e dell'ospedale La Staria di Lucera dal lunedì al sabato. Emergenza sangue che non lascia indifferente nemmeno la sindaca di Foggia, Maria Aidea Episcopo, anche da Palazzo di Città arriva l'appello a donare sangue per salvare vite e scongiurare tragedie.